Dopo la vittoria di domenica scorsa al Fattori nella semifinale di andata, l'Aquila Rugby Club affronterà il Valsugana Padova nel match di ritorno che decreterà chi delle due squadre si giocherà la finalissima per l'accesso al campionato d'eccellenza. Il kick-off è previsto per domenica 14 maggio alle ore 15.30. Arbitrerà il signor Tomò di Roma. I neroverdi arriveranno a Padova, forte del 30 al 19 dell'andata, che ha garantito agli aquilani un importante punto di bonus offensivo. Ma in terra Veneta sarà tutt'altro che facile. I bianco-azzurri infatti vorranno ribaltare il punteggio davanti al caldo pubblico di casa. In settimana la concentrazione del gruppo è stata massima per arrivare ad una partita cruciale per la stagione nero-verde. Alcuni cambi ci saranno per quanto riguarderà il 15 iniziale. Troiani e Rotiglio potrebbero infatti schierare Carlo Cerasoli in seconda linea al posto di Mattia Vaschi con l'inserimento in terza linea di Daniel Gentile. Avvicendamento anche in mediana con Giancarlo Carnicelli al posto di Nicolao Speranza. Saranno presenti anche i tifosi nero-verdi che affronteranno la lunga trasferta per sostenere i ragazzi nella semifinale. In programma anche la diretta streaming su Rugby Channel e come sempre il live tweet del match sui canali social nero-verdi.